Musica Musica solo con il movimento con l'apertura della bocca cambiare la vocale ma rimanere sempre sulla posizione della U mai una E mai una I passare sempre è la vecchia regola dei castrati loro passavano sempre dalla U una cosa personalissima naturalmente però per piazzare bene la voce è un buonissimo esercizio per esempio fare prima bocca chiusa quello che ho imparato da Celetti che è un grande conoscitore e vi faccio vedere forse vi sarà utile solo con l'apertura della bocca non cambiare la resonanza e la posizione questa è una vecchia regola oh 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 oh